Chi ci sarà stasera? Io ho paura La spia di oggi è un uomo Oddio è un uomo Com'è? Nometto? Vabbè giudicate voi Chi è? Buonasera e benvenuto signor Hitler Hitler Non incomincia anche a caffari dal vaso, eh? Abbassa sta mano prima che te la ciò Su questo ha ragione lei Ma ricominciamo Signor Hitler, lei che berva si sente? Un caterpillar? Mamma mia che fantasia Allora cosa, lei mi ha invaso il camerino Ma a fine intervista me lo deve liberare Purtroppo non stiamo a giocare risico, ok? Io, io, io Lui la teme, eh? Signor Hitler, leggo che lei predica la superiorità dell'uomo ariano Biondo, occhi azzurri, alto, nordico Eppure c'ha sto fisichetto da giocatore del buraco Ma è vero Se le dico Himmler, Goebbels, Göring Mamma mia Che cosa le viene in mente? Formazione Germania che ha perso contro l'Italia? No A me la puntata dei malattie mentali imbarazzanti Sì, esatto Signor Hitler, ci racconta di quaggida in Polonia finita male? Ecconia A me sa capire il culo Senta, lei ha stretto amicizia con un italiano famoso, forte e calvo Sì Quando è che ha conosciuto Luca Zingheretto? Ma no Ma hai conosciuto? E te credo Volevete che gli rinfrescava il mio mario con la cinquina? Ma no Ma che fa? Si agita Ma ha paura lui Oh, vola di appizze così magari parla Dai, le di qualcosa Ma ha paura Ma ha paura Oh, per una volta ha fatto bene, posso dirlo contrabbiamo Davi Cia la pasione Grazie a tutti.